Assessore, ancora questa progettualità sul rilancio delle Marche, sulla visibilità questa volta con la cultura gastronomica? Sicuramente questo appuntamento che terremo qui nelle Marche dei Maestri Particieri Nazionali è una volontà forte che la Regione Marche ha voluto inserire in un progetto, in un percorso di valorizzazione sempre più dei nostri territori e di promozione di questo nostro bellissimo territorio e di questa nostra Regione. Allora inserire questa tre giorni dedicata all'Accademia dei Pasticieri Nazionali, tra la più importante a livello mondiale per quello che riguarda la pasticceria e l'enogastronomia, vuole essere un ulteriore messaggio non soltanto dal punto di vista della cultura enogastronomica ma anche di un lancio sempre più forte in un settore interessante per la Regione Marche e quindi come Regione Marche vorremmo e vogliamo promuovere e promuoveremo anche questo ulteriore percorso perché lo riteniamo fondamentale per valorizzare questa nostra Regione a livello nazionale e internazionale.